Forza e onore Al mio segnale Scatenate l'inferno Cadetti 66 maschile Alla premiazione Piedi Monte Andrea Castro Gabbieri Sconamilla Matteo Udo Francesco Sengica al podio Grazie 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 Marcelli Sip Sip Mulan Elsa Becca Ilaria A terzo classificato Matteo Scolamilla Caleri Scagliari A parimento con Sporta Basalta Gabriele Castro Secondo classificato Del ciclo Carvisi di Tutto Vincenzo Vincenzo Premia Erminia Sordo Vicepresidente Comitato Giornale Di Campania E il primo classificato Pieri Monte Andrea Piano Vincenzo Masvella Fiorini Si preparano Soma Marco E Melis Antone Per favore Spostassi Al canone Vicino al podio Ragazze Ragazze Pulano Becca Approfittiamo Sempre Da 6 a 1 Per l'apprenazione Cadenti 73 Maschili Si avvicinano al podio Serra Lorenzo Gusai Francesco Per la finale Del 57 Si preparano Oficenzo Erika Gusipo Fabiana Melis Luca Obino Filippo Gusai Francesco Serra Lorenzo 73 Maschili Siamo pronti Partiamo La pregazione Terzo Classificato Del Giurgo Premalghiero Serra Lorenzo Vincenzo Giorgi La pregazione Mutt Come Bambini Come Bambini Bambini Siamo pronti Bis poi Musimi Vasili C'è Mutt Na At